Ok, vi ho lasciato le canzoni mentre li sto perdendo, volevo ricordare qualche appuntamento per la festa delle donne, adesso sarà Giuliano, cioè Giuliano Ischitella al Metropolis, Metropolis Giuliano per le donne ingresso gratuito, non si pagano, non si pagano le donne, ci sarà Alessio in concerto, poi saremo al Manzoni a Cercola, a San Giorgio a Cremano, tra Ponticelli e San Giorgio a Cremano, 35 euro con Alessio e Nensi, Gino Villa e Piano Bar e Musica, la pizzetteria a Striano, la piazzetta, ristorante e pizzeria Tre Stelle a Scafati, le cascate al Lago di Padre e poi saremo Villa Mirabella, Torre Annunziato Agostino, ci saranno tanti tanti artisti, poi dopo vi ricorderò ancora altre cose. 8 marzo, mi raccomando. Antonio, qualche messaggio? Metti un po' il microfono vicino perché non ti ascolto, un attimo più piano, vai. Posso? Allora, Alessio sei stupendo, mi vuoi dedicare Vivi per Lui, da Antonella da Barra? Sì? Poi, c'è un messaggio che abbiamo visto prima mentre ti sto perdendo, il primo messaggio che è arrivato? Sì, però è passato. Non l'hai visto?